La situazione economica nell'Italia di fine Ottocento è molto difficile, soprattutto a causa dell'elevata disoccupazione e dei bassi salari. Ciò che fa precipitare la situazione, causando un malcontento di massa, è l'aumento del costo del grano da 35 a 60 centesimi al chilo, causato dagli scarsi raccolti agrari e in parte dall'aumento del costo dei cereali di importazione dovuto alla guerra ispano-americana. Nonostante il tentativo di molti politici di organizzare la protesta in modo pacifico, nella speranza di ottenere dal governo riforme in senso democratico, il malessere popolare è così profondo che sfocia in rivolte spontanee contro le istituzioni in molte parti d'Italia. Il 2 maggio del 1898 viene dichiarato lo stato d'assedio a Firenze e due giorni dopo a Napoli. Il 6 e 7 maggio la protesta esplode anche a Milano, nei moti conosciuti anche come protesta dello stomaco. Le comunicazioni ufficiali riportano gli avvenimenti in modo molto accentuato, presentandoli come opera di un movimento rivoluzionario. Sabato 7 maggio il governo dichiara quindi la provincia di Milano in stato d'assedio, cosa che prevede il divieto di assembramento, la censura dei telegrammi, il divieto di circolazione dopo le 23, ecc. Il generale Fiorenzo Bava Beccaris, che vediamo in quest'immagine, nominato commissario straordinario con pieni poteri, decide di occupare militarmente la piazza del Duomo e stabilisce un piano per il progressivo controllo della città entro tre giorni, con la riapertura degli stabilimenti dal 10 maggio. Centinaia di persone vengono arrestate, anche giornalisti e parlamentari quali Filippo Turati, le organizzazioni sindacali e socialiste vengono sciolte e tutti i giornali antigovernativi messi al bando. L'azione repressiva delle truppe del generale Bava Beccaris, soprannominato dall'opinione pubblica il macellaio di Milano, è sanguinaria. Vengono sparate 11.164 pallottole e 9 colpi di cannone, che causano un centinaia di morti e oltre 400 feriti tra i manifestanti. Il 10 maggio vengono riaperti quasi tutti gli stabilimenti e la maggior parte delle attività. Nello stesso giorno l'arcivescovo di Milano, Andrea Carlo Ferrari, invia una lettera al generale Bava Beccaris dicendo di aderire agli alti sentimenti di ordine e di giustizia ai quali si inspira nel compiere il gravissimo suo ufficio. Re Umberto I, che vediamo in quest'immagine, premierà la condotta del generale con la croce di grande ufficiale dell'ordine militare di Savoia e il 6 giugno del 1898 con un seggio in Senato. Lo stesso presidente del Consiglio, Antonio Starabba, marchese di Rudini, gli telegraferà queste parole «Ella ha reso un grande servigio al re e alla patria». Il 29 luglio del 1900 a Monza l'anarchico Gaetano Bresci ucciderà re Umberto I per vendicare i morti dei moti di Milano. Citiamo dall'opera «Non uccidere» dello scrittore filosofo russo, anarchico cristiano Lev Tolstoi, «Se Alessandro di Russia e Umberto non hanno meritato la morte, assai meno l'hanno meritata le migliaia di caduti di Plevna o in terra d'Avissinia». Sono terribili tali uccisioni non per la loro crudeltà o ingiustizia, ma per l'irragionevolezza di coloro che le compiono. Se gli uccisori di re sono spinti a essere tali da un sentimento personale di indignazione suscitato dalle sofferenze del popolo in schiavitù, di cui appaiono loro responsabili Alessandro, Carnot, Umberto, o da un sentimento personale di offesa e vendetta, allora tali azioni, per quanto ingiuste, appaiono comprensibili. Bene, questo è tutto. Spero che abbiate trovato il video interessante. Se volete, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ringrazio davvero tanto per l'attenzione. Alla prossima!